Ti si può parlare tranquillamente un attimo? Eh no. Ho una proposta da farti. Possiamo fare un sacco di soldi. Oddio, facendo cosa? Tu, quello che sai fare, meglio di chiunque altro. Sistemi di sicurezza. Ciao Mario! Ciao Sheila! Come stai? Dove è Clara? Clara è andata a trovare un bimbo che verrà ad abitare da noi e che potrà essere tuo amico se vorrai. Guarda cosa mi ha regalato la mamma. Che bella! A proposito, come sta Ketty? Mi ha lasciato. Per quando venire quando? E Sheila sta con te ora? Un po' che la mamma è... Un po' che un po' pone. Mi chiami? No. Se preferisci l'odore di benzina hai perfettamente ragione. A me piace tanto. Anche a me sai. Pagina 5. A me sai. Un po' che. A me sai. A me sai. A me sai. Grazie a tutti